Buonasera e benvenuti a una puntata di Attualità Granata, il radiogiornale di Radio Granata con le ultime notizie dal mondo del Torino FC. Bella vittoria oggi per la primavera di Moreno Longo che batte in modo abbastanza tranquillo la squadra di Giacomo Gattuso, ossia il Novara. Dunque Torino-Novara 2-0 con gol di Gentile su Zuccata su calcio d'angolo, appunto un calcio d'angolo splendido battuto da Mattia Ramu e poi ci pensa lo stesso Mattia Ramu qualche minuto dopo a arrotondare il punteggio con davvero una girata splendida che termina sull'angolino opposto. Una partita che ha visto un primo tempo un po' più difficile per i ragazzi di Longo che sono stati messi in difficoltà dal pressing e dal modulo difensivo applicato da Giacomo Gattuso ai suoi ragazzi ma poi nel secondo tempo sono stati più grintosi e soprattutto hanno avuto gli spazi che hanno permesso loro di scatenarsi. Dunque una grande partita per i ragazzi di Moreno Longo e dunque volano ancora di più in classifica a quota 36 punti ancora imbattuti con 11 vittorie e 3 pareggi, sempre appunto più primi nel girone A del campionato primavera. Passando invece alle vicende della prima squadra sono 22 i convocati di Mister Ventura per la importante sfida di domani contro l'Atalanta. Mancheranno soltanto Danilo D'Ambrosio ancora fuori rosa per motivi di mercato come ben sapete, Gazzi che ha avuto una distrazione ai legamenti della caviglia e l'Arrondo che ha già iniziato ad allenarsi con la squadra dopo la rottura del piede ma non ha ancora la forma chiaramente per contribuire alle sorti della nostra squadra. Dunque rientrerà gradatamente nelle prossime settimane. Dunque i 22 sono portieri Berni, Gomi, Spadelli, difensori Bovo, Darmian, Glic, Maximovic, Masiello, Moretti, Pasquale, Rodriguez, centrocampisti Bascia, Belluomo, Brighi, El Caduri, Farnerud, Taxi, Idis e Vives, attaccanti come sempre Barreto, Cerci, Immobile e Meggiorini. Quindi 22 come quelli del Toro, i convocati invece di Stefano Colantuono per la trasferta di Torino. Mancheranno alcuni giocatori che sono partiti come ad esempio e che comunque sia partiranno nelle prossime ore come Michele Canini. Però è stato recuperato Giorgi e soprattutto Cigarini che potrebbe anche partire titolare anche se non è ancora una notizia certa. Comunque sia i 22 sono Baselli, Benaluane, Buonaventura, Brienza, Brivio, Carmona, Cazzola, Cigarini, Consigli, De Luca, Del Grosso, Denis, Giorgi, Cone, Livaia, Morales, Nica, Polito, Raimondi, Sportiello, Stendardo e Iepes. Una squadra d'esperienza che dunque dovremo essere in grado di affrontare con la giusta attenzione ma senza svenderci appunto per puntare alla vittoria. Arbitrerà Tagliavento la partita di domani coadiuvato dagli assistenti appunto come sempre dai cinque assistenti di porta. Mentre invece altri arbitri importanti per le sfide di giornate De Marco Inter Catania e Tommasi Fiorentina Genoa. Questa partita potrebbe segnare la cinquantesima vittoria di Giampiero Ventura con la squadra in Serie A. Dunque vittorie che ho tenute a suo tempo con Cagliari, Udinese, Messina e Bari soprattutto con il Bari ma anche con il Torino con cui l'anno scorso ci furono già otto trionfi. E quest'anno speriamo appunto di poter vedere domani ancora un altro bel trionfo per diciamo vendicare il 2-0 dell'andata che risulta ancora indigesto per il modo in cui è arrivato. Dunque con qualche incertezza arbitrale e tanta 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 sfortuna. Dunque speriamo che domani appunto ci possa essere una buona partita. Passando invece alle notizie sul mercato, per quanto riguarda Marco Vesovic, sembra appunto che si sia già nata la C-Spot e questa indiscrezione è stata confermata da Cami Glick in conferenza stampa. Dunque potrebbe essere a breve messo appunto sotto contratto dal Torino, però permane ancora l'incertezza per quanto riguarda lo status di extracomunitario. Dunque il Torino dovrebbe parcheggiarlo presso un'altra società, parcheggiarlo come si dice in gergo, sia metterlo sotto contatto fino a giugno per poi occupare il posto da extracomunitario appunto nella prossima stagione dal 1 di luglio. E proprio per questo motivo c'è ancora qualche tentennamento nonostante il ragazzo sembra che abbia appunto già convinto la dirigenza e dunque avrebbe già firmato fosse per loro. Però resta da chiarire questo dubbio. Domani comunque sia potrebbe assistere a Toro Atalanta appunto, visto che è sempre più vicino il suo approdo in maglia granata. Le indiscrezioni della stampa riportano invece il Torino interessato a un giovane centrocampista del Manchester United, ossia Guillermo Varela. Ma non appaiono in tal senso grandi conferme, dunque verificheremo prossimamente. Ma intanto pensiamo all'Atalanta e forza vecchio cuore granata per la partita di domani. Da parte mia Giacomo Corongiu un augurio di buona serata e di buona continuazione.